Attenzione, rigore contro i ragazzi, punizione del limite, ci salviamo, niente da fare, prendiamo la curva che è arrivata numerosa a questo giro, nonostante tutto, nonostante la guida di Missoni, freddo, acqua, indicazioni errate Punta, finalmente un'azione pericolosa dei nostri, ricordiamo che abbiamo avuto difficoltà con i tornelli a entrare, stavamo per entrare nella piscina olimpionica, oltre che in una partita che probabilmente era Uganda contro il Senegal Notare le bandierine come sono, attenzione guardate Citi forse è galvanizzato dalla nostra bandiera, Cipo si difende bene, Citi fa un lancio, cambia tutto, per Tarietto, Tarietto è la sua posizione, Umeri, avanza, la botta, uuuuuh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Il personaggio So mica io cosa è successo Dai Bacai Cartellino rosso Potrebbe essere la svolta Siamo molli ragazzi Fuori le palle Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo Bravo Darietto Capitano Sempre lui E Darietto capitano Faccio un go Faccio un go Tirae agli ate Tirae agli ate Faccio un go Faccio un go Puttana Porca Dai Dai Lindo Uo 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 Oggi non andiamo Oggi non andiamo No vabbè Mi sa che è la giornata del Uo Uo Bravo Darietto Incredibile Darietto Il capitano Vediamo il Dick che si arrabbia Dai ragazzi buttiamo dentro che è il terzo Uo 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 Attenzione Si sta scatenando un mini rissa Da una parte e dall'altra Arriva il Citi Uo 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 2 a 2 La partita è sempre più calda Darietto sempre più decisivo Che l'ha fatto Darietto Andiamo Ornaghi Ornaghi Si libera Uo 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 Facci il palo Uo Tira palo No No Vai Freddo Che l'ha addospero Ma cos'è palo non è che vuoi Palo interno Palo interno Palo interno Uo Dai Freddo Puttana che animale Si 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 Darietto Andiamo Guarda l'abitro Guarda l'abitro Guarda l'abitro Guarda l'abitro Guarda l'abitro E andiamo Grande Darietto Grande Darietto Grande Darietto Cerca di in tutti i modi di far rientrare gli altri in partita 2 Due minuti di recupero Due minuti di recupero Facci il po' E allora Darietto quattro gol Darietto sugli scudi Seconde